La tradizione è tradizione, come ogni domenica di ottobre si è svolta, domenica 7, a Pianniscola, 41esima Fiera Nazionale degli Uccelli da Richiamo. Ancora un successo per la comunità dell'Altipiano che ha richiamato centinaia di persone, non solo gli appassionati del settore ma anche tanta gente proveniente dai comuni vicini. Il rituale è sempre lo stesso, prima una giuria di ispezionare i soggetti canori in gara, poi la premiazione, quindi le iniziative collaterali come il grande mercato nel viale Alcide De Gasperi, e nel pomeriggio anche il tiro alla fune. Tra le novità di quest'anno la partecipazione dell'Associazione Proloco che nel sabato ha allestito anche una cena delle contrade. Ha stato veramente un successo, grazie anche soprattutto a tutto il comitato perché naturalmente senza di loro sarebbe impossibile fare le feste. E grazie anche alla Proloco locale perché hanno in pratica dato una svolta a quella che è la nostra fiera con questo progetto nuovo del palio delle contrade, del tiro alla fune. Questo ha voluto che ieri sera abbiamo avuto più di 200 persone a mangiare grazie proprio alla benedizione delle casacche e del canapo che andranno oggi a gareggiare le contrade che sono cinque. Il palatoio, la pieve, San Mignato, Santa Pollonia e il casa Herico. Grazie anche a un folto numero di banchi, di espositori e direi per la prima volta abbiamo avuto tre espositori di uccelli da richiamo, cosa è per noi veramente, è stato un successo. La 41esima edizione consecutiva che viene fatta qui nel paese di Pian di Scò, è una manifestazione storica, la più longeva penso, forse il perdono è da più anni che viene fatto. Quest'anno e anzi dall'anno scorso viene coinvolta anche la Prologo di Pian di Scò che organizza anche i tiralafoni fra le contrade del paese, così da coinvolgere anche i giovani e tutto il paese in questa bellissima manifestazione che ha ospitato anche un mercato dove ha partecipato molta gente. Oltre ai soggetti in gara sono diventati attrazione per tutti gli animali da cortile ed esotici presenti al grande mercato della fiera. Bilancio dunque più che positivo e gli organizzatori sono già pronti per la prossima edizione del 2019. Andiamo sempre a migliorare, meglio di così non potevo andare. Ringrazio tutti e ci vediamo l'anno prossimo.